Ciao a tutti e benvenuti su Plenoctis. Io sono Rob e oggi voglio proporvi la mia recensione dell'incredibile storia dell'Isola delle Rose. Prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella per rimanere sempre in contatto con i prossimi video. Partiamo subito col dire che il film non mi è piaciuto e questo mi dispiace proprio perché il film in realtà è italiano, il regista è Sidney Sibilia e vanta un cast comunque con Elio Germano che lasciava presagire la possibilità di un buon film e dal punto di vista tecnico questo è riuscito. La fotografia secondo me è ottima ed è assolutamente alla pari se non di alto livello in confronto a ciò che viene fatto normalmente anche su Netflix e in generale abbiamo raggiunto un livello tecnico tale che secondo me possiamo dal punto di vista del cinema italiano veramente rilanciarci e realizzare pellicole che possono competere realmente con la qualità hollywoodiana. Tuttavia però il problema principale del film è che questo non è stato fatto dal punto di vista della sceneggiatura. La storia affronta le vicende di Giorgio Rosa che è un ingegnere bolognese che negli anni 50 decide di costruire una piattaforma a largo dell'Adriatico dove poter vivere come se fosse sostanzialmente uno stato indipendente e lotta proprio per fare in modo che venga riconosciuto come stato indipendente in cui lui è presidente. Nella storia vera lui impiega dieci anni per costruire questa piattaforma per poi realmente risiedervi e mantenerla attiva soltanto per un mese e qualche giorno proprio perché poi il governo italiano decide di intervenire smantellandola. La dinamica del rapporto conflittuale fra questo stato indipendente e lo stato italiano in realtà viene totalmente romanzata come è romanzata anche tutta la storia vera che sta alle spalle di questo film e questo è secondo me l'elemento principale che rende il film sbagliato sotto tutti i punti di vista soprattutto per quanto riguarda appunto la sceneggiatura. Abbiamo già detto che la fotografia risulta molto positiva la parte che riguarda propriamente la regia e come i temi sono veicolati all'interno del film è totalmente sbagliata perché viene presa una storia vera che poteva essere trattata in maniera sì cinematografica ma con il lato documentaristico proprio di una storia vera anche sia divertente per certi versi con degli aspetti bizzarri ma anche in maniera proprio documentaristica e precisa come fanno anche altri film anche oltrooceano e questo non è stato fatto si è scelta una via di stile totalmente comica a un certo punto che non è più nemmeno commedia ma proprio comicità comicità rendere i personaggi delle macchiette per dare probabilmente il senso del ritmo ad un film che esclusa la parte iniziale che presenta appunto i personaggi e questa bizzarra vicenda poi non ha tanti altri elementi su cui poter far leva ma in realtà poi questa cosa non mi trovo d'accordo perché quello che si poteva tranquillamente fare era cercare di calcare la mano su altri temi che in questo senso diventano anche rilevanti e anche molto corretti da poter inserire perché se pensiamo che si tratta di una storia che vede un personaggio una persona aver costruito qualcosa fuori dal territorio italiano per cercare di sfuggire alle maglie di uno stato abbiamo tutta una tradizione filosofica intellettuale storica di situazioni di temi possibili che si possono approcciare si può approcciare per esempio il tema della giustizia e se la giustizia delle leggi di uno stato è superiore alla giustizia di un individuo si può approcciare il tema se le decisioni dell'individuo siano effettivamente superiori a quelle di uno stato e se lo stato arriva a definire anche delle politiche ad esempio sul corpo sulle restrizioni personali se è legittimato a farlo soltanto perché quella persona è cittadino in quello stato o se invece comunque la persona ha la proprietà assoluta sul proprio corpo abbiamo una tradizione che va da aristotele tommaso d'aquino e poi anche con obse hanno parlato di questi di queste situazioni e la mia stessa tesi di laurea magistrale in filosofia in realtà affronta queste tematiche e perciò mi sono ritrovato di fronte un film che mi sarei aspettato avesse molta più profondità da questo punto di vista invece quello che succede è che tutta la storia viene declinata sostanzialmente su un unico tema cioè il confronto fra la libertà diciamo anche abbastanza spicciola ingenua come trattata nel film del periodo storico di riferimento perché l'avvenimento principale avviene nel 1968 hanno dei moti studenteschi che in tutta Europa hanno portato anche a dei grandi cambiamenti che poi vediamo anche noi tutti i giorni e che invece semplicemente qui viene trattato come una sostanziale differenza fra la libertà come dicevo prima in maniera ingenua e il potere di uno stato che è coercitivo ma che sostanzialmente viene equiparato e vengono tutti equiparati fra loro i poteri cioè lo stato la religione e altri tipi di poteri coercitivi vengono tutti equiparati e tutto il discorso è una lotta per la libertà per essere libertari il più possibile contro chi invece ti vuole imporre uno stile di vita ti vuole imporre sostanzialmente delle leggi in maniera appunto coercitiva ed è questa banalità anche con cui vengono trattati questi temi che non solo sono banali di per sé ma proprio non rappresentano nemmeno il periodo storico di riferimento negli avvenimenti reali perché un conto è che certe dinamiche siano state effettivamente appurate e siano anche verosimili dal punto di vista cinematografico ma un conto invece inventare totalmente delle dei personaggi macchietta e delle scene abbastanza comiche semplicemente per dare al ritmo un film che appunto non l'avrebbe avuto posto la base iniziale che è abbastanza interessante e quindi questo mi ha dispiaciuto perché il film comincia effettivamente proprio come un vero e proprio film documentaristico su un periodo storico particolare del nostro paese come se ne sono anche visti tanti altri in america come per esempio The Post o Le Mans 66 quello stile lì si è andate a ricercare con un'ottima fotografia che secondo me stava rendendo benissimo anche il periodo storico ma poi si va a scivolare in una banalità di temi e una anche banalità di esecuzione che secondo me rende il film veramente veramente insufficiente e questo mi dispiace e dal punto di vista tematico non sarebbe stato difficile che alcuni personaggi proponessero e facessero determinati discorsi in modo da inserire tematiche più profonde all'interno del film solo all'inizio il personaggio di Gabriella che fa l'avvocato di diritto internazionale fa un discorso sulla giustizia che però serve più a presentare un carattere a questo personaggio piuttosto che a veicolare un vero e proprio tema che potrebbe abbracciare tutto il film sarebbe bastato che altri personaggi facessero dei discorsi su dei temi complessi che citavo anche precedentemente in modo tale ad avere avuto una visione d'insieme molto più complessa e che ci avrebbe dato molta più profondità rispetto a quella che c'è nel film perché poi ripeto dal punto di vista della fotografia non c'è niente di sbagliato e anzi è ottima ma ciò che rimane è proprio una trattazione di tematiche e una riproposizione storica che da un lato è inaccurata e dall'altro invece veramente fin troppo banale e non possiamo accettare certe situazioni al limite del comico con appunto questi personaggi macchietta come vengono presentati anche i politici italiani di quell'epoca e in generale le forze dell'ordine di quell'epoca quando l'argomento anche se vuole essere declinato in senso di leggerezza per non appesantire effettivamente non si sta parlando di chissà quale situazione che richiede una drammaticità assoluta sarebbe bastato che comunque fossero trattati in maniera piuttosto verosimile per far comprendere però dal punto di vista reale qual è stato questo fenomeno e questo non c'è purtroppo dal punto di vista attoriale secondo me le interpretazioni sono state buone con un elio germano che riesce a presentarsi questo personaggio in maniera molto convincente in generale tutte le interpretazioni sono state assolutamente di livello e come dicevo anche precedentemente per la fotografia non hanno nulla da invidiare a un certo tipo di recitazione hollywoodiana e d'oltreoceano quindi questo aspetto mi è piaciuto non mi è piaciuta tantissimo un po' di deriva finale per una sequenza alla zack snyder che secondo me non serviva proprio perché cerca di rendere un tipo di drammaticità quasi comica alla watchman per per capirci ma che di quella tonalità tragico o tragicomica per certi aspetti non c'è per niente qui e quindi non 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 poteva assolutamente funzionare quindi in definitiva il mio voto per il film è 54 su 100 proprio a rimarcare il fatto che tecnicamente il film è ottimo ma poi dal punto di vista della sceneggiatura soprattutto per quanto riguarda la scarsissima profondità dei temi siamo su un livello insufficiente mentre i dialoghi in realtà sono buoni la regia complessiva potrebbe essere sufficiente se appunto non peccasse di una visione d'insieme che non tiene conto della possibilità di inserire qualcosa di più premiante di più profondo che semplicemente un film quasi comico fin troppe derive allo stile di smetto quando voglio il regista è ovviamente lo stesso ma non c'era bisogno di fare la stessa tipologia di film perché quello era molto più leggero di quanto poteva essere questo film anche volendo mantenere delle dinamiche appunto basate su una trattazione documentaristica leggera e non su una cosa iper drammatica o tragica ma non ci siamo nemmeno da quel punto di vista lì per questo la mia recensione termina qui nei commenti fatemi sapere se avete visto il film se vi è piaciuto oppure non vi è piaciuto e per quale motivo se il video vi è piaciuto mettete un mi piace iscrivetevi al canale attivate la campanella per rimanere sempre in contatto con i prossimi video e noi ci vediamo ad un prossimo video ciao